o adesso andiamo in alto e cioè o sentire prima poi seguite per qualcuno che non ci segue le ultime tre note pensate che andare in basso vi aiuta a non steccare io vi farò così perché la nota va in alto voi dovete pensare di aiutare a rilassarvi ecco perché quando uno recchi stecca è perché come quando si grida c'è più voce non so perché non so perché non so perché allora pronti quindi vi faccio questo gesto perché non dovete andare in alto ma pensare come se dovete andare in basso ok bravi ancora ok ok Omm